Nel mezzo del cammin di nostra vita vorrei alietare non solo i dannati dalle loro sofferenze spirituali ma far sì che anche il suave corpo coda di nuove virtù. In via di San Salvi nella mia Firenze è lì che vi voglio portare amici con cotanto pelo, pelo e voglia di benessere. Signor Dante, ciao Sissi, si accomodi, benvenuto nell'epicentro dell'estetica e lo beauty, il tempo di illuminare Moissiego e sarò da lei. Ma vengono proprio tutti in questo centro, signorina Stefania, per una perfetta armonia viso e corpo. Che cosa vi consiglia? LPG, straordinaria macchina, viso-corpo, che garantisce ottimi risultati già visibili dopo poche sedute. Le presenta il nuovo arrivato Cellu M6 Integral. Guardate com'è facile rimodellare senza fatica la vostra silhouette. Rassodare la pelle. Contrastare la cellulite. Dare luminosità al viso, rassodare i contorni e attenuare le rughe. Ora tutto questo è possibile grazie a LPG Cellu M6 Integral. Trattamento innovativo ed altamente professionale. Oh cara Stefania, la mia moglie lascia un peloso problema che la avvolge. Lei? Che potrebbe risolvere con questo guaio? Certo che sì, sommo poeta. Epil Specialist, un marchio, una garanzia. Grazie alla potenza del laser possiamo garantire l'eliminazione parziale o totale del pelo in tutte le aree del corpo, senza dolore e soprattutto a bassi costi. Guardate come se la gode la nostra cliente. Le regole di una sana alimentazione sono basilari, ma in caso di grasso in eccesso ci sono soluzioni pratiche e tecnologiche davvero efficaci? Certo, le presento Mr. Bibby. Apparecchi all'avanguardia per il dimagrimento passivo, tanto che una volta entrati potrete beneficiare di un massaggio vibrante con piperizzato in totale benessere, senza rendervi conto che il vostro corpo sta tornando tonico e in forma. Per un relax divino! Maestro! Maestro! Ma non era divina! Mannaggia! Continuate a seguirci su ilovebeautyfirenze.it Grazie a tutti!